Balanzone Giuseppe, Balante Esmeraldo, Balmieri Liberato, Pierani Giulio, Filuso Salvatore, Pinto Giuseppe, Pologuto Pietro, Ranieri Sante. La mia madre il giorno prima diceva a mio padre, e lei mi diceva sempre, Peppino non andare a lavorare, stai con me. È un momento anche di speranza, di speranza che ricordando queste tragedie noi possiamo stare più uniti tra i nostri paesi e continuare a accogliere quei migranti comprendendo cosa significa oggi la migrazione, la fuga dalla guerra, la fuga dalle violenze, la fuga dalla fame. La mia madre il giorno prima diceva a mio padre, e lei mi diceva sempre, io mi ricordo quanto avevo cinque anni di questa tragedia e mi ricordo che tutte le donne piangeva, tutti gli uomini erano sull'emozione, io mio padre era minatore, operaio minatore, ma è morto quando io avevo un anno. Invece questa tragedia è stata nel 1956, aveva allora cinque anni e mi ricordo molto bene l'emozione di quel momento. Cieli infiniti e volti come pietra. Dobbiamo dare rispetto agli emigranti perché loro partono dal proprio paese per venire a fare il sacrificio per aiutare la famiglia e certa gente non arriva neanche perché muore. Io vado via, amara terra mia, amara e bella. Ciao. Ciao. Ciao.